Manca la viabilità alternativa, in caso di eventi negativi non ci sarebbe collegamento tra nord e sud del paese. Questo l'allarme lanciato dai sindaci della Val Tiberina a destare preoccupazioni e ancora una volta la E45, l'arteria a cavallo tra Emilia Romagna, Toscana e Umbria, la cui alternativa, la ex Tiberina Trebis, è ancora ferma. Il primo cittadino di Bagno di Romagna, assieme ai colleghi di Sansepolcro, Verghereto, San Giustino e Città di Castello, ha così nuovamente preso carte penna per sollecitare il ministro alle infrastrutture, Paola De Micheli, ad impegnarsi in merito appunto alla mancanza di viabilità alternativa tra Pieve Santo Stefano e Verghereto, richiedendo un intervento urgente. La lettera fa seguito alla nota dello scorso 31 ottobre, quella quale il sindaco di Pieve Santo Stefano segnalava la propria preoccupazione in relazione ai problemi connessi al ripristino della ex Tiberina Trebis, che ad oggi risulta ancora privo di elementi di certezza, nonostante gli stessi lavori fossero stati annunciati da parte del governo e di Anas come imminenti ormai nove mesi fa. La grave problematica, scrivono i sindaci, connessa alla mancanza di una viabilità alternativa ad un'arteria di rilevanza nazionale ed europea, quale la E45, era già stata evidente in occasione della vicenda del viadotto Puleto, con danni economici e sociali incalcolabili, ma, proseguono, la situazione della viabilità alternativa si è aggravata poiché la provinciale 137, che collega Bagno di Romagna a Verghereto, è stata interdetta al traffico a causa di una frana, per cui, se le 45 dovesse essere coinvolta da un qualsiasi evento negativo, l'abitato di Verghereto rimarrebbe isolato e si porrebbe nuovamente il problema del collegamento tra nord e sud del paese. La richiesta dei sindaci è dunque quella di convocare al più presto un tavolo operativo per tracciare il quadro dei tempi, operazioni, nonché per coordinare le informazioni.